amici del mio viaggio a roma bentornati stiamo continuando il nostro giro all'interno dell'ospedale spalanzani e ci siamo imbattuti una bellissima scultura qui ne potete vedere già la targa che dopo andremo a vedere da vicino eccola qua questa la statua l'angelo di primavera di rinascita di giorgio bisanti guardate quanto è bella fatta in marmo dopo ci gireremo intorno così ve la farò vedere tutta adesso vi faccio vedere la targa e la leggeremo insieme primavera di primavera di rinascita opera dello scultore giorgio bisanti dono dell'artista dell'associazione nazionale funzionari della polizia di stato alle comunità dello spalanzani roma 28 aprile 2023 ebbene sì perché questa statua è stata donata allo spalanzani come riconoscimento di gratitudine al personale dello spalanzani e idealmente a tutte le strutture sanitarie che hanno dato prova di uno spirito di sacrificio senza precedenti durante l'emergenza covid 19 difatti questa statua vuol rappresentare dopo le ferite inferte dal covid all'italia una rinascita una rinascita in tutti gli ambiti lavorativo di salute nel campo medico che gli italiani possano superare questo momento di crisi e riprendere tutte le normali attività questa è la statua ve la sto facendo vedere tutta intorno come vedete qui c'è un particolare che sembra una un'ala di un angelo è una struttura credo di stile astratto non definito guardate qui possiamo vedere nelle varie sequenze da davanti da dietro dal lato sinistro dal lato destro spero che quello che avete visto oggi vi sia piaciuto e ci vediamo nei prossimi video